Ti piace giocare a calcio e vorresti cominciare a vivere questa esperienza? Ci pensa all'Olimpia Cedas di Summona, che imita bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni a partecipare agli Open Day nelle giornate di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 settembre dalle 17 alle 18.30 negli impianti sportivi Cedas Fiat della Magneti Marelli e venerdì 7, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 settembre dalle 16 alle 18 allo Stadio Pallozzi di Summona. Approfitta di questa opportunità, il divertimento sarà assicurato!